Ehi, ciao! Allora, questo è un server di Minecraft, ma è diversamente brutto, quindi bello! Infatti qua puoi scavare legno, scavare terra, scavare pietra, scavare altri tipi di litri inutili a fine di gameplay, scavare minerali, scavare altra pietra, scavare minerali più belli, scavare ancora pietra, scavare minerali più belli di minerali belli, scavare mob, scavare player, ok no, quello forse no. Però questo rimane pur sempre uno dei servizi migliori di aria, o almeno uno dei miei preferiti, ma questo perché? Probabilmente avrai già notato che non c'è niente di diverso da un server normale, eppure è bello, perché è semplice, è facile, in fondo è questo quello che cerchiamo, no? Essenzialmente qua è tutto quello che Vanilla può offrire, con la semplicità e la sicurezza di trovare staff attivo e player cordiali, cosa che non è molto scontata. E per di più, come vedi in chat o in tab, abbiamo un sistema di classificazione basato a rank sul tempo di gioco. Ah sì, e quando muori ti fa anche una musichetta delle meme, solo se non l'avessi notato. Tutto al più, il server è il privo di lag, lo puoi vedere dai numerini del ping, a parte quello staffer che, boh, è il modo in patata. Inoltre, finiamo eventi settimanalmente e regolarmente, e puoi vedere cose molto pichivate, molto. Quindi beh, spero di avverti convinto ad entrare. L'IP lo puoi trovare in descrizione, o è stato davanti a te tutta la durata del video in alto. E mi raccomando, ricordati di votare quotidianamente il server su Minecraft Italia. Ciao! Grazie a tutti.